La nuova Sondrio Calcio ospita la concorrezzese con l'obiettivo di avvicinarsi sempre di più all'eccellenza. Domenica alle 15.30 alla Castellina i Biancazzurri saranno di scena contro i Brianzoli per cercare il settimo risultato utile consecutivo dopo le cinque vittorie di fila e il pareggio senza reti di domenica scorsa in casa del Lissone. A quota 57 punti i valtellinesi sono primi nel girone B di promozione e sono avanti sei lunghezze dall'Arcellasco che sarà in campo nel posticipo di mercoledì sera in casa del Galbiate. La concorrezzese è una formazione con molti alti e bassi ma composta da ottimi giocatori come ha dimostrato il pareggio per 1-1 a Cavenago di domenica scorsa mister Fabio Fraschetti dovrebbe avere busto a disposizione riduce da un fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo a Lissone. Non ci saranno sicuramente Gonzalo Scudero squalificato e Gigio Trani infortunato. Tutti gli altri saranno impegnati per chiudere i giochi il prima possibile ora che mancano cinque giornate alla fine del campionato.